Carissimi amici e amiche, buongiorno a tutti, siamo arrivati alla fine dell'anno, ho fatto un altro video oltre questo nel quale ho fatto gli auguri a tutti quanti voi, abbiamo fatto un breve escursus di tutti i casi trattati, ma voglio concludere l'anno con un video importante, ecco che vi prego di condividere, su Liliana De Sinovic, perché? Perché andando ad analizzare alcuni aspetti che poi vedete sono i particolari alla fine che fanno la differenza, emergono delle circostanze che oggi ci fanno dire come ad esempio ci siano delle persone come le cosiddette amiche di Liliana che non sono mai venute alla luce e che assumono una certa importanza, alla luce di quando vi sto per dire, quindi si parla delle colleghe Ilaria, Mara, Patrizia, vediamo un po' che ruolo hanno queste donne e per capire il ruolo di queste donne dobbiamo iniziare da quel famoso pomeriggio del 14 dicembre quando sparisce la Resinovic e i vicini di casa vengono chiamati per scendere a casa di Sebastiano, quindi Sebastiano chiama Gabriella sul suo cellulare dopo aver visto il messaggio, sono le 17 e 37, quindi non è come è stato detto che la chiamata viene fatta dal cellulare di Liliana, no, Sebastiano chiama a Gabriella, la chiama dal suo cellulare, quindi questo già è un elemento nuovo perché è stato detto più volte in tv che veniva chiamata dal cellulare di Liliana, invece veniva chiamata dal cellulare di Sebastiano, comunque va bene, poco cambia alla fine, quindi questi vicini di casa scendono e appena arrivati, dopo poco siamo alle ore 18, con il numero col telefono di Liliana questa volta, Sebastiano o qualcun altro, cioè noi parliamo del telefono di Liliana, quindi o Sebastiano o qualcun altro che stava con lui, che cosa fa? Chiamano al numero chiamano in regione, al numero di una ex collega Ilaria, ora questo è un fatto eclatante, strano per modo di dire, cioè appena scendono questi vicini di casa, Sebastiano o chi per lui, chiama subito in regione a questa Ilaria, per quale motivo? Però questa Ilaria ovviamente non si spunte perché evidentemente alle 18 gli uffici della regione sono chiusi, allora sempre con lo stesso cellulare di Liliana, seguitemi, viene chiamata di nuovo Ilaria però sul cellulare, sul suo cellulare, quindi qualcosa di importante, cioè l'esigenza di chiamare questa Ilaria, cosa c'entrava questa Ilaria è qualcosa che bisogna tenere a mente, quindi però squilla e squilla questo cellulare di Ilaria, collega, amica, collega e non risponde, non risponde. Però cosa succede? Che evidentemente poi alle 18 e 12 minuti, quindi dopo pochi minuti, questa Ilaria, Ilaria evidentemente si accorge della chiamata a cui non aveva disposto Sebastiano e chiama lei dal suo cellulare, chiama lei sul telefono di Liliana e quindi parla evidentemente con Sebastiano o chi per esse, noi parliamo di cellulare, Sebastiano o chi per esse, ma in casa lì in quel momento c'era Sebastiano, Salvo e Gabriele. Quindi Ilaria chiama e stanno a telefono per circa due minuti, quindi una telefonata, insomma, relativamente breve, più o meno due minuti. Poi si riaggancia e subito dopo, siamo alle 18 e 16, attenzione 18 e 16, Sebastiano o qualcun altro sempre, da quel cellulare chiama un numero interno della questura. Ora, non si sa a che fine, non si sa a che titolo, subito dopo la chiamata di Ilaria, si riaggancia e si chiama un numero della questura e si sta a telefono altri due minuti. Quindi, ricapitoliamo, telefonata a Ilaria in seggiune, non disposta, telefonata sul cellulare di Ilaria, non risposta, Ilaria chiama sul cellulare di Liliana, risposta due minuti di conversazione, subito dopo chiamata in questura, due minuti di conversazione. Allora ci si chiede, che cosa stava succedendo, per fare cosa, perché si era chiamata, quindi con chi, con chi soprattutto in questura ha parlato Sebastiano o chi per esso, quindi cosa, perché non questi particolari non sono emersi, soprattutto, perché? E perché questa amica, collega, come la vogliamo chiamare, Ilaria, chiama, chiama dopo aver visto la chiamata, perché? Cosa c'entra? Nella immediatezza cosa c'entra? Possibile che il primo pensiero, quando scendono i vicini di casa, sia quello di chiamare questa Ilaria, ma non sembra che questa Ilaria sia, come dire, una di famiglia, una che frequentavo. Comunque, dopo la telefonata in questura, all'interno della questura, sono le 18.20 e Sebastiano o qualcun altro, con il telefono di Liliana, si accorge che c'è un messaggio in segreteria telefonica, perché abbiamo un messaggio, abbiamo un accesso alla segreteria telefonica e nella segreteria telefonica c'era un messaggio di Sterpin, quindi dal numero di Sterpin c'era un messaggio nella segreteria telefonica, non di che si tratta, comunque c'è un accesso alla segreteria telefonica. Poi, passa un po' di tempo, arriviamo alle 19.11. Alle 19.11, quindi dopo una mezz'oretta che si erano sentiti, poco più di mezz'ora, richiama di nuovo questa amica Ilaria, chiama di nuovo sul telefono di Liliana, come per far sapere qualcosa, cioè non lo so, è incredibile questa cosa qui, dopo diciamo una quarantina di minuti, questa Ilaria quindi richiama e rimane al telefono con Sebastiano o chi per esso, insomma, due minuti e venti secondi, si presume con Sebastiano, secondo me, comunque rimangono al telefono due minuti e venti secondi, che non sono pochi, che non sono pochi, però questa cosa qui non è mai stata detta, perlomeno che non ho mai ascoltato, adesso emerge questa cosa qui, due minuti e venti secondi, chiama per la seconda volta questa Ilaria. Poi, qual è la stranezza, soprattutto, di queste chiamate di Ilaria? È che questa Ilaria è stata pure sentita a Sitte, insieme a queste colleghe, amiche, così sommariamente, e lei nei suoi verbali, nelle sue dichiarazioni, quando è stata ascoltata, dice che non vedeva Liliana dal mese di giugno-luglio, quindi non era una che era assidua, era amica del cuore, cioè non vedeva da giugno-luglio a Liliana e l'aveva sentita una sola volta di Chiara, per telefono, attenzione, a settembre, quindi era una che non era amica, assidua, allora per quale motivo c'è questo scambio di telefonate? Quindi sfugge la motivazione per la quale avvengono queste telefonate che forse le ha fatte Sebastiano, ma comunque se le ha fatte pure Sebastiano, comunque alla presenza di Salve e Gabriele che stavano là, si presume almeno che l'ascoltassero, credo, sempre che l'abbia fatta Sebastiano, però quelli sono i soggetti presenti, ma manca in tutti i casi però il processo logico, perché questa circostanza di telefonate non è mai stata detta, perlomeno in tv, non è mai stata riferita così, e nel frattempo, oltre a questi scambi di telefonate fra Questura e l'amica Ilaria, ci sono pure telefonate poi a Pinel Lauro, Pinel Lauro, e più si capisce qua con il risulio, eppure si capisce perché fanno parte un po' del gruppo, e con il fratello Sergio, e quindi questo diciamo forse rientra più in una normalità. Poi alle ore 19, quindi praticamente poco prima che l'amica Ilaria richiama, alle ore 19 ci sta la famosa mail che la vicina di casa fa in Questura per comunicare, diciamo, la scomparsa della Resinovic, e nella quale mail dà atto che la Resinovic è scomparsa dalla mattina, dalle ore 9, quindi non si sa se ora questo dato sia stato poi nell'effettiva conoscenza anche di Sebastiano, o meno se lui non abbia fatto caso a questa specificazione. Comunque resta il mistero di queste telefonate con Ilaria che era un'amica per modo di dire. Altro mistero è legato anche a un'altra amica che si chiama Mara. Questa amica Mara, amica e collega che lavorava proprio nell'ufficio con Liliana, proprio in questo protocollo generale. Quindi era una collega amica di stanza, diciamo così. E la curiosità è che viene qualificata questa qui anche come amica di Sterpin. Lui la qualifica come sua amica, amica di Sterpin. E però la curiosità già nasce dal fatto che Sterpin avesse il numero di questa Mara, mentre il numero di cellulare di questa Mara non risultava nell'elenco di quello di Liliana. Cioè Liliana non aveva il numero di cellulare di Mara e non si può presumere che non l'avesse per qualche motivo diciamo legata a qualche forma di privacy. Aveva altri numeri, ma questo qua no. Ora, è strano se questa era proprio un'amica sua e una collega di stanza. E anche perché il nostro Erpin dichiara che più di una volta, più volte, aveva accompagnato proprio a Liliana da Mara. A vedere Mara e alcune sue amiche. L'aveva accompagnata con la sua macchina in località San Giacomo. San Giacomo dove si vedeva, dice lo Sterpin, dove accompagnava Liliana che si vedeva con l'amica Mara ed altre amiche in località San Giacomo, puntualizza proprio davanti alla Chiesa e quindi si vedeva con lei e altre amiche che lui non ha specificato perché diciamo non erano a lui conosciute. Ora, perché vi dico questo? Perché c'è un altro particolare strano, cioè che il giorno 12 dicembre parliamo, il giorno in cui sono andato a grado, il giorno in cui c'è stata quella ricerca compulsiva del Gran Premio di Abu Dhabi, sapete? Tutte quelle cose lì. E allora, il giorno 12, dopo aver fatto quella ricerca a Abu Dhabi, eccetera, dopo aver fatto questo fatto di andare a grado con la bici avanti e indietro, Liliana e Sebastiano tornano verso Trieste. Tornano verso Trieste e sono del 16 e 30. Sono del 16 e 30. E però invece di andare dritta a casa dopo una giornata un po' così sbattuta, ecco, però cosa fanno? Arrivano a Trieste e si fermano due ore. Prima di rientrare a casa si fermano per ben due ore. E dove si fermano? Indovinate un poco? Si fermano in località San Giacomo. San Giacomo che sarebbe, forse per combinazione, per carità, la stessa località dove Serpin accompagnava più di una volta a Liliana a vedere l'amica Amara insieme con altre amiche. E anche loro quel 12 dicembre si fermano dopo una giornata che avevano fatto tutta una pedalata eccetera eccetera, si fermano per ben due ore in località San Giacomo. Attenzione! Non sappiamo a fare cosa, ma sappiamo che si fermano lì due ore e il contapassi di Liliana in quella circostanza, niente di meno, certifica che Liliana cammina per oltre un chilometro. Cioè, questa è veramente strana questa cosa perché dopo una giornata un po' convulsa e che hanno pedalato per grado eccetera eccetera, alle 16 e 30 invece di tornare direttamente a casa, così per riposare stanchi, si fermano due ore a questa località San Giacomo. Non si sa ufficialmente a fare cosa, ma si sa che Liliana Resinovic cammina per oltre un chilometro, cioè voglio dire in un chilometro in più movimenti, ma comunque in totale percorrere più di un chilometro. E non si sa, ma c'è una stranezza in sé. E quindi ciò fa pensare a questa amica amara, costa l'idea questa amica amara che Serpino dice di conoscere molto bene, ma di cui, vi ripeto, Liliana non aveva il recapito cellulare segnato nella rubrica. Quindi questa è un'altra cosa. Poi subendo un'altra collega, ecco questo mistero delle colleghe amiche, subendo un'altra collega, pura e strana, che si chiama Nada, quindi abbiamo Ilaria, poi abbiamo Mara, Mara, Ilaria, Mara, e poi ci sta Nadia, la terza collega, Nadia, Nada, scusate, Nada, non Nadia, Nada. Questa collega Nada è importante perché? Perché quando una volta i giornalisti chiedono a Sebastiano di dare qualche nominativo di colleghe con le quali Liliana era particolarmente, come dire, in amicizie, che si vedevano così, giusto per chiedere anche a queste amiche colleghe, sa, qualche notizia, eccetera, lui non dice, Sebastiano non è che dice Ilaria oppure Mara, no, dice fra le colleghe c'è la sua cara amica Nada, Nada, che effettivamente è una sua amica, perché c'è il numero, ad esempio, di questa Nada c'è nella rubrica telefonica di Liliana, ed effettivamente questa è un'amica, e quindi non si spiega poi perché invece Mara non fosse nella rubrica di Liliana, e fosse invece nella rubrica di Serpino, fra le altre cose. E quindi nasce, come dire, il dubbio di come mai non fosse nella rubrica questa Mara, che però più volte si incontrava con Liliana a San Giacomo, con lei e con altre amiche, ma perché non stava poi nella rubrica, visto che era una collega amica e lei non ci stava, invece questa Nada ci stava, le altre ci stavano, vedete, anche che questa non va bene. Ecco, perché addirittura questa Mara risulta nella rubrica di Serpino e non in quella di Liliana, visto che era Liliana che si incontrava con Mara. È un mistero. quindi abbiamo quest'altra Nada, che sarebbe un'amica effettivamente, diciamo, confidente. Ora, è che questa amica Nada fosse effettivamente un'amica anche di Sebastiano è testimoniata, perché quel 14, a una certa ora sul tardi, diciamo, dopo le 22, quando praticamente credo che Sebastiano stessi in quest'ora, c'è un contatto, dopo le 22, fra Sebastiano e questa Nada. Ecco, quindi dopo il pomeriggio il contatto con Ilaria. Dopo le 22, Sebastiano contatta a Nada. un contatto con un, evidentemente, non con un messaggio, ma con un vocale. E c'è una risposta poi a questo vocale che non è stato recuperato, perché c'è la risposta di Nada che dice a Sebastiano, gli scrive, ma hai provato a mettere l'avviso su Facebook? Ecco, quindi si presume che sia stato riferito a Nada il fatto, sommariamente, e lei, questa Nada, dice, ma hai provato a mettere l'avviso su Facebook? E stiamo dopo le 22, circa 22.20. Quindi viene coinvolta anche quest'altra amica. Quindi, poi addirittura possiamo parlare anche di altre amiche che cita Sebastiano come Tiziano, quindi Tiziano pure la cita come amica. Però, vedete, in tutte queste amiche qui, quelle che sono la più strana sono Ilaria che viene contattata da subito e che lei richiama più volte, poi questo contatto con la questura, e questa amica Amara che era amica ma non registrata sul cellulare e che era invece registrata sul cellulare di Starpine che accompagnava Liliana, insomma, in questa località, San Giacomo, a Trieste, di fronte alla chiesa per incontrarsi con Mara e con altre amiche. Mentre invece normalmente aveva il contratto di Nada, il contratto di Tiziana. Quindi questa codispondenza con queste amiche che entrano prepotentemente, insomma, in quel 14 di dicembre è da approfondire, soprattutto in relazione alla posizione di Ilaria e di Mara, e di Mara soprattutto, che è un altro mistero. Ed è curioso, vedete, è curioso perché in effetti se avete seguito bene il ragionamento, magari di vedertelo, sono dei dati, dei dati certi questi, perché si desumono dai tabulati, dai tabulati, sono dati certi e quindi sono delle considerazioni, diciamo, di tipo oggettivo che magari possono trovare normalmente spiegazioni di altro tipo, ma che certamente un'amica con la quale ti vedi e ti frequenti non sia l'unica ad essere registrata nella tua tubrica è una stranezza che non so come si possa spiegare, non so come si possa spiegare che compulsivamente nell'imminenza della spadizione si chiami a questa amica Ilaria che ti chiama due volte, insomma, per quale motivo, visto che non era proprio un'amica questa Ilaria che dichiara, io l'ho vista giugno, giugno-luglio, l'ultima volta. Quindi di che cosa stiamo parlando? Non stiamo parlando di qualcuno che era di famiglia, che tu dico subito la notizia a questa, stiamo parlando di uno che luglio, agosto, settembre, ottobre, che sono sei mesi circa che non si vedevano, ma di che cosa stiamo parlando? Quindi ecco perché bisognerebbe ampliare lo sguardo in questa vicenda, non soffermarsi sempre, la storiella, quella, voleva cambiare la vita, la cosa, a casa lì l'amore, l'amante. Ecco, perché non si amplia? E spero che nel 2024 adesso si possa, si possa allargare lo sguardo. Quindi, e quindi questo è il mio augurio, l'agurio che faccio a tutti quanti voi e, diciamo, come vi pubblico anche adesso un augurio che mi ha mandato poco fa Sebastiano in coda a questo video, vi pubblico pure il suo saluto che ha fatto molto gentilmente a me e a voi tutti e, come vedete, io qui ho sollevato anche dei dubbi in generale su queste vicende, ma come mi viene dato, ad esempio, un saluto che mi perviene, io lo posto sul canale, a prescindere da qualsiasi altra considerazione, chiunque può mandare saluti e viene pubblicato. Quindi io ringrazio Sebastiano di questo saluto e questo augurio che ci ha voluto fare a me e a tutti quanti voi, però di una cosa dobbiamo essere sicuri che si cerca di dire e di perseguire la verità, qualsiasi sia, sia in un senso che in un altro, senza disegni mentali, senza riserve mentali. Quindi, da parte mia, ancora vi rinnovo l'augurio di prosperità, di salute e di benessere per tutto l'anno e ringrazio Sebastiano che ci manda questo suo saluto, questo suo augurio. Quindi, grazie a tutti e arrivederci, a prestissimo. Ciao Nicola, colgo l'occasione per farti gli auguri di un buon anno a te, alla tua famiglia e a tutti quelli che ti seguono. Io oggi sono veramente devastato. Sono due anni che non ho notizie. Non so come è morta mia moglie e perché è morta. Quando sono morta? Quando è morta? Niente, sono spaventato da entrare nel terzo anno. Non so cosa mi aspetta. Io vorrei tanto avere delle risposte, qualcuno che mi dica a tutte queste domande che mi sto facendo. Niente, ti saluto, ti abbraccio.